Sì, complimenti alla Virtus, hanno fatto una partita seria e hanno giocato con un grande atteggiamento. Da parte nostra abbiamo approcciato male la gara, non siamo stati in grado di fare la partita che volevamo dal punto di vista fisico, in difesa soprattutto. Sono partiti 3-6-9, noi abbiamo sbagliato qualche tiro aperto ma al di là di quello è stato un approccio troppo soft alla partita. Detto questo nel primo tempo siamo rimasti attaccati pur sbagliando molti tiri liberi, pur regalando tante palle perse. Nel secondo tempo abbiamo completamente mollato, questo è inaccettabile, ce lo siamo detti, totalmente inaccettabile. Non ci sono particolari ragioni, se non che è la prima volta che ci troviamo a trovare, di fronte a una squadra che ci passa completamente sopra, non abbiamo trovato il modo di reagire. Come reagiremo da questa sconfitta a definire la nostra stagione?